Guida completa all'uso della legge di attrazione. La legge di attrazione consente infinite possibilità, infinita abbondanza e infinita gioia. Non conosce ordine di difficoltà e può cambiare la vostra vita in ogni modo se glielo permettete. In questo momento la vostra vita è guidata e influenzata da forze universali di cui forse non siete nemmeno consapevoli, e la più potente di tutte è la legge di attrazione. Proprio come la legge di gravità, è sempre in vigore e influisce sulla vostra vita in molti modi che non potete immaginare. La buona notizia è che, una volta che siete consapevoli di questa legge universale, potete imparare a usarla per cambiare la vostra vita in meglio. Perché il fatto è questo, voi siete in un costante stato di creazione. Ogni momento di ogni giorno, state attivamente creando la vostra realtà. Con ogni pensiero, conscio o subconscio, state creando il vostro futuro. E quando sapete come sfruttare il potere della legge di attrazione nella vostra vita, potete dirigere i vostri pensieri e le vostre azioni in modo da attrarre senza sforzo ciò che desiderate. Forse in questo momento starete pensando, aspetta un attimo, la legge di attrazione esiste davvero? Molte persone, quando sentono parlare per la prima volta di questa legge universale, la liquidano come uo. Quindi, se avete dei dubbi sul fatto che funzioni davvero, non siete certo i soli. Ricevo spesso domande da persone che si chiedono cosa sia la legge di attrazione e sono scettiche sulle affermazioni che hanno sentito. Vi dirò quello che dico sempre loro. Aspettatevi i miracoli Quando capirete come funziona la legge di attrazione, potrete usarla per cambiare la vostra vita in meglio e creare un futuro straordinario. Questa guida vi guiderà attraverso il processo di utilizzo di questa potente legge universale e vi mostrerà come manifestare ciò che desiderate in ogni ambito della vostra vita. Vi insegnerò le sette leggi dell'attrazione, esatto, ce n'è più di una, e i tre passi comprovati per attivarle nella vostra vita. Imparerete anche a usarle per scopi diversi, come attrarre più ricchezza o amore nella vostra vita. Allacciate le cinture, perché sarà un viaggio incredibile. Che cos'è la legge di attrazione? La legge di attrazione è un principio universale che afferma che attirerete nella vostra vita tutto ciò su cui vi concentrate. Qualsiasi cosa a cui dedichiate energia e attenzione è ciò che vi tornerà indietro. Quando vi concentrate sull'abbondanza di cose positive nella vostra vita, attirerete automaticamente più cose positive nella vostra vita. Ma se vi concentrate su pensieri negativi e vi concentrate solo su ciò che vi manca nella vita, alla fine attirerete la negatività nella vostra vita e ciò che desiderate di più continuerà a sfuggirvi. Perché l'universo usa la legge di attrazione? In poche parole, perché il simile attrae il simile. Se vi sentite eccitati, entusiasti, appassionati, felici, gioiosi, riconoscenti o abbondanti, allora state inviando energia positiva all'universo. A sua volta, questa energia positiva attirerà persone, risorse e opportunità che risuonano sulla stessa lunghezza d'onda energetica. L'ottimismo portato senza sforzo nel vostro percorso di vita vi permetterà di raggiungere i vostri obiettivi. Se invece vi sentite annoiati, ansiosi, stressati, arrabbiati, risentiti o tristi, state inviando energia negativa. Questa energia negativa respinge la positività e attrae persone ed eventi pessimistici nella vostra vita. Scoprire la legge di attrazione nella vostra vita Probabilmente avete notato la legge di attrazione nella vostra vita. Per esempio, una persona che si lamenta in continuazione attrae tipicamente amici o seguaci che hanno anch'essi un atteggiamento negativo. Oppure le persone felici ed energiche attireranno nella loro cerchia altre persone motivate e intraprendenti. Questa è la legge universale di attrazione in azione. È importante notare che all'universo non interessa il tipo di vibrazione energetica che inviate. Non gli interessa se siete una persona positiva o negativa. Risponde semplicemente a ciò che offrite. Cambiando la vostra vibrazione energetica, potete cambiare il modo in cui l'universo vi risponde. Potete manifestare particolari risultati nella vostra vita semplicemente creando e appoggiandovi a vibrazioni che si allineano con i vostri desideri. Ma per farlo, dovete diventare profondamente e continuamente consapevoli della vostra energia, dei vostri pensieri e dei vostri sentimenti, e dei sette modi diversi in cui essi danno forma alla vostra realtà. Le sette leggi dell'attrazione. La legge di attrazione può essere suddivisa in sette mini-legge che influenzano il modo in cui il mondo risponde a voi e i risultati che ottenete nella vita. Cancelletto 1 La legge di manifestazione. È ciò che la maggior parte delle persone pensa quando sente le parole legge di attrazione. La legge di manifestazione afferma che i nostri pensieri e sentimenti creano la nostra realtà e ciò su cui ci concentriamo è ciò che manifesteremo nella nostra vita. Suggerimento. Le affermazioni sulla legge di attrazione sono un modo potente per tenere a mente i vostri obiettivi e per aiutarvi a concentrarvi su ciò che volete, e non su ciò che non volete, in modo da poter creare la vita che desiderate. Cancelletto 2 La legge del magnetismo. La legge del magnetismo afferma che tutto ciò che è accaduto nella vostra vita, le persone, le cose e le opportunità che sono entrate nella vostra vita, così come le circostanze in cui vi siete trovati, è il risultato dell'energia che mettete nel mondo. Attirate ciò che siete. Cancelletto 3 La legge del desiderio incrollabile. Volete veramente le cose che credete di volere? La legge del desiderio incrollabile afferma che il vostro desiderio di raggiungere o attrarre una certa cosa deve essere forte e inflessibile per poterla manifestare nella vostra vita. Quando i vostri desideri sono deboli e privi di fondamenta solide, non saranno in grado di attrarre ciò che desiderate. Cancelletto 4 La legge del delicato equilibrio. L'universo è composto da un equilibrio tra varie forze ed elementi. E poiché siamo microcosmi dell'universo, anche noi desideriamo l'equilibrio. Quando i diversi aspetti della vostra vita sono in equilibrio, siete in grado di sperimentare la vera pace e la gioia. Ma per raggiungere l'equilibrio sono necessarie riconoscenza e gratitudine. Cancelletto 5 La legge dell'armonia. La legge dell'armonia descrive l'interazione coordinata delle forze e degli elementi che compongono l'universo. L'armonia è il flusso della vita. Quando si è in sintonia con essa, tutto sembra facile, come se si nuotasse con la corrente anziché contro di essa. Attingere alla legge dell'armonia e sforzarsi di vivere in armonia con tutti gli altri esseri vi aprirà all'ottimismo che l'universo ha da offrire. Cancelletto 6 La legge della retta azione. La legge della giusta azione afferma che le vostre parole e le vostre azioni influenzano il mondo che vi circonda e determinano la qualità delle vostre esperienze di vita. Il modo in cui vi comportate e trattate gli altri determinerà il modo in cui gli altri vi trattano. Quando vi concentrate sull'azione giusta e siete gentili con gli altri, assicurandovi sempre di fare a loro ciò che vorreste fosse fatto a voi, attirerete più positività nella vostra vita. Cancelletto 7 La legge dell'influenza universale. È facile sentirsi piccoli e insignificanti quando si guardano le stelle di notte. Ma la verità è che ognuno di noi è parte integrante dell'universo. Abbiamo un impatto sul mondo con tutto ciò che pensiamo e facciamo. Le nostre vibrazioni energetiche diventano parte del tessuto dell'universo. Ecco perché è così importante che siate consapevoli dei vostri pensieri, sentimenti e azioni, così come dei segnali dell'universo, per dimostrare l'impatto delle vostre azioni e indirizzarvi verso i vostri sogni. Così facendo, potrete controllare efficacemente la vostra energia e aumentare l'impatto positivo che avete sul mondo che vi circonda. Tre passi per utilizzare la legge di attrazione. Per attivare il potere di questa legge universale, basta seguire un semplice processo in tre fasi. Fase 1. Chiedere all'universo ciò che si desidera. Ogni giorno inviate richieste all'universo e alla vostra mente subconscia sotto forma di pensieri. Tutto ciò che pensate, leggete, parlate e a cui prestate attenzione sta dicendo all'universo ciò che volete attirare di più nella vostra vita. Ecco perché è così importante che diventiate più intenzionali nei confronti dei pensieri che offrite all'universo. Più siete chiari e concentrati su ciò che volete davvero, più sarà facile per voi attrarre quelle cose nella vostra vita. Per esempio, supponiamo che vogliate cambiare carriera, trasferirvi in un altro stato, vincere un importante premio professionale, avere un programma televisivo tutto vostro o guarire da una grave malattia. Come vi sentireste una volta arrivati al vostro obiettivo? Cosa fareste durante la giornata? Con chi passereste il tempo? Più vi concentrate su ciò che volete, invece che su ciò che non volete, più velocemente manifesterete i vostri sogni e obiettivi. Fase 2, credere di poter ottenere ciò che si desidera. Non basta concentrarsi su ciò che si desidera, bisogna credere che sia possibile. Se pensate a ciò che volete ma in cuor vostro dubitate di poterlo ottenere, finirete per inviare segnali contrastanti all'universo, che vi risponderà con risultati contrastanti. Il problema è che la maggior parte delle persone ha convinzioni limitanti che impediscono loro di far entrare l'abbondanza e la felicità nella propria vita. Se questo è il vostro caso, vi invito a iniziare un lavoro sulla mentalità che vi aiuterà a liberarvi dalle vostre convinzioni limitanti e a sostituirle con la consapevolezza che siete meritevoli, degni, amabili, desiderabili e capaci di raggiungere qualsiasi obiettivo possiate immaginare. Fase 3 – Ricevere ciò che si desidera Ora, per ricevere ciò che desiderate, dovete diventare una corrispondenza vibrazionale per ciò che volete attrarre nella vostra vita. Il modo più semplice per farlo è creare emozioni positive di amore, gioia, apprezzamento e gratitudine durante la giornata. Potete anche esercitarvi a provare le emozioni che provereste se aveste già ciò che desiderate. Questo attiverà la vostra mente subconscia a trasformare in realtà i sentimenti immaginati. Infine, non dimenticate di agire con costanza per raggiungere i vostri obiettivi. Le intenzioni sono molto potenti, ma per ottenere risultati è necessario agire. Come usare la legge di attrazione per obiettivi specifici Vediamo ora alcuni esempi di come usare la legge di attrazione per manifestare risultati specifici nella vostra vita. Attirare denaro e successo finanziario Se volete aumentare la vostra ricchezza, passate più tempo a pensare al denaro. Leggete libri e guardate video su come aumentare la vostra prosperità e fare più soldi. Immaginate la somma esatta che vorreste e quando. Credete semplicemente che accadrà, e sarà così. Soprattutto, ricordate di essere grati per tutto ciò che avete già e di apprezzare l'abbondanza di tutto ciò che di buono c'è nella vostra vita. Questo vi aiuterà a creare una corrispondenza vibrazionale per l'abbondanza finanziaria che desiderate nel vostro futuro. Attrazione dell'amore e delle relazioni Le persone che sono in grado di sfruttare il potere della legge di attrazione lo usano spesso per attrarre più amore e romanticismo nella loro vita. Se volete attrarre l'amore nella vostra vita, siate l'amore che volete attrarre. Siate amorevoli e generosi con gli altri e con voi stessi. Apprezzate l'amore che avete nella vostra vita e cercate dei modi per esprimerlo. Più create una vibrazione d'amore, più forte sarà il segnale che invierete all'universo e otterrete più potere di attrarre l'amore nella vostra vita. Migliorare il vostro benessere Potete usare questa legge universale anche per migliorare la vostra salute mentale e fisica. Imparare a usare la legge di attrazione in modo efficace richiede di diventare una persona più positiva, che si concentra sul provare emozioni che arricchiscono l'anima, come la gratitudine, la connessione e l'abbondanza. Questo vi permette di coltivare una mentalità più sana, che a sua volta vi ispirerà a sentirvi più sicuri di voi stessi e a prendervi più cura della vostra salute fisica. Manifestare il successo nella vostra vita Se vi state chiedendo se sia davvero possibile usare questa legge universale per prendere il controllo del vostro destino e attrarre più successo nella vostra vita, io ne sono la prova vivente. E devo tutto al mio mentore, W, Clement Stone. Quando ero insegnante a Chicago e guadagnavo 8000 dollari all'anno, mi disse, voglio che tu fissi un obiettivo così grande che se lo raggiungerai, saprai che è grazie al segreto che ti sto insegnando. Decisi che il mio obiettivo sarebbe stato quello di guadagnare 100.000 dollari quell'anno. Creai l'immagine di una banconota da 100.000 dollari e la appesi al soffitto sopra il mio letto. Ogni mattina vedevo l'immagine. Visualizzavo come sarebbe stato avere 100.000 dollari. Tutto quello che facevo era per raggiungere quell'obiettivo. Alla fine dell'anno, avevo guadagnato 97.000 dollari. Ma questa è solo una storia, o guardate il video qui sotto per vedere altre storie incredibili di persone che hanno usato questa legge universale per raggiungere un successo incredibile nella loro vita. Meditazione sulla legge di attrazione per la guida. La meditazione è un'eccellente forma di pratica per attivare la legge di attrazione e coltivare una mente chiara e positiva. Provate questa semplice pratica di meditazione per energizzare la consapevolezza. Trovate un luogo tranquillo, chiudete gli occhi e concentratevi sul rallentamento del respiro. Ripetete una parola o una frase edificante. Entrate in uno stato di quiete. Immaginatevi circondati da una sfera di luce. Se siete nuovi alla pratica della meditazione, all'inizio i vostri pensieri andranno alla deriva e la vostra mente vagherà. Ricordate di non essere duri con voi stessi quando questo accade. Questo fa parte dell'apprendimento della meditazione. Il punto non è controllare i pensieri o cercare di svuotare la testa dai pensieri, entrambe le cose sono impossibili. Si tratta semplicemente di diventare più consapevoli dei propri pensieri. Quando vi accorgete di avere pensieri negativi o che non vi servono, lasciateli andare e riportate la mente al presente. La pratica costante della meditazione vi aiuterà a liberare la mente dalle distrazioni, a ripulire i vostri pensieri e a migliorare la vostra connessione spirituale con l'universo. Questo vi aiuterà naturalmente a essere una persona più positiva e ad attrarre più bene nella vostra vita. Citazioni sulla legge di attrazione Nel corso della storia, le menti e i maestri spirituali più grandi hanno compreso il potere che i nostri pensieri hanno sulla nostra vita. Ecco dieci citazioni sulla legge di attrazione che vi ispireranno ad attivarne il potenziale nella vostra vita. L'universo è cambiamento, la nostra vita è ciò che i nostri pensieri fanno. Marco Aurelio Antonino Lasciare che la vita ti accada è da irresponsabili. Creare la tua giornata è un tuo diritto divino. Rampa Tutto ciò che siamo è il risultato di ciò che abbiamo pensato. Buddha Ciò che la mente dell'uomo può concepire e credere, la mente dell'uomo può realizzarlo. Napoleon Hill Sei ciò che pensi tutto il giorno. Dottore Robert Schuller Ammetto che i pensieri influenzano il corpo. Albert Einstein Una volta presa una decisione, l'universo cospira perché si realizzi. Ralph Waldo Emerson È ormai scientificamente provato che un pensiero affermativo è centinaia di volte più potente di un pensiero negativo. Michael Bernard Beckwith Il tuo futuro è creato da quello che fai oggi, non da quello che farai domani. Robert Kiyosaki Se fai quello che hai sempre fatto, otterrai quello che hai sempre ottenuto. Anthony Robbins Vi invito ad affiggere la vostra citazione preferita in un posto dove possiate vederla e ispirarvi ad essa ogni giorno. Agite oggi. Ora che avete compreso il potere della legge di attrazione e il suo funzionamento, vi invito a iniziare subito a metterla in pratica nella vostra vita. Ricordate questi consigli. Siete pronti a mettere in atto il potere dell'universo nella vostra vita? I vostri pensieri determinano la vostra realtà, se volete cambiare la vostra vita, dovete iniziare a cambiare i vostri pensieri. Quando coltivate un atteggiamento di gratitudine e vi allenate a concentrarvi su ciò che c'è di buono nella vita, troverete la vostra vita piena di persone ed esperienze positive. Sognate in grande, se volete che l'universo produca grandi risultati, dovete avere grandi sogni. Ricordate che l'universo risponde sempre all'energia che inviate. Utilizzate affermazioni positive, il modo migliore per mantenere i vostri pensieri, le vostre azioni e la vostra energia concentrati sui vostri obiettivi più elevati e usare affermazioni positive. Quando affermate che i vostri obiettivi sono già stati raggiunti, attivate la vostra mente subconscia per trasformare la vostra visione in realtà. Chiarite i vostri obiettivi, una visione chiara porta a risultati chiari. Ecco perché è così importante essere diretti su ciò che si vuole e confermare che ciò che si pensa di volere è davvero ciò che si vuole. Desideri ambigui portano a risultati ambigui. Utilizzate una tavola di visione, le lavagne di visione sono uno strumento potente per chiarire la visione della vostra vita e per tenere in mente i vostri obiettivi in modo da poterli attrarre senza sforzo nella vostra vita. In questo caso, assicuratevi di prendere la mia guida gratuita su come attivare la legge di attrazione e sfruttare il potere del successo senza sforzo. Questa utile guida vi fornerà informazioni dettagliate su come manifestare ciò che desiderate in ogni ambito della vostra vita, padroneggiando i vostri pensieri e le vostre emozioni in modo da poter attrarre la vita che desiderate veramente, oltre a sperimentare.